Ogni settimana in Italia un bambino muore per soffocamento da inalazione da corpo estraneo. Ieri, sotto i portici di Palazzo Gotico, i rappresentanti della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica e i volontari di Croce Rossa hanno insegnato ai presenti le manovre di disostruzione delle vie respiratorie dei bambini. Le manovre sono leggermente differenti perché da 0 a 1 anno si articolano con 5 pacche interscapolari e 5 compressioni toraciche fino alla disostruzione completa. Nel bambino più grandetto e nell'adulto si fa la manovra di Haimli che è una compressione subdiaframmatica ponendosi posteriormente al paziente e con una violenta compressione si disostruisce la via respiratoria. Ricordiamoci che abbiamo 3 minuti di tempo perché dopo questi 3 minuti ci sono dei danni ischemici, anossici, cerebrali con quindi complicanze neurologiche. È un corso che ho trovato molto utile in quanto sono manovre importanti da sapere. La paura è sempre tanta, speriamo sempre che non capiti a noi, però sapere come agire è sempre importante.